In questo brano c'è qualcosa di straordinario che in molte altre parti viene messo in luce nella parola del Signore ed è il fatto che Dio ci abbia scelto. Ora, molte volte noi non riusciamo a comprendere il significato, il senso di questa affermazione. Dio mi ha scelto ed è una delle cose più importanti e straordinarie che ad un uomo possano succedere, anzi, permettetemi, è la cosa più straordinaria in assoluto. Cosa vuol dire scegliere? È questo che mi disorienta a volte quando penso. Scegliere vuol dire avere di tante cose, uno in particolare. È questo che si fa. Le donne lo sanno bene quando vanno dal fruttivendolo, no? Tra le tante cose scelgono le migliori. Ora, non è questo il nostro caso, almeno il mio. Io non mi sento migliore e non mi sentirò mai migliore degli altri, ma mi sento tanto privilegiato in questa sera. Perché tra tanti peccatori Dio ha fatto grazia a me. e mi ha scelto, tra tanti, mi ha scelto, mi ha tirato fuori, come cantavamo poco fa dal fango, mi ha tolto, mi ha chiamato fuori. Chiesa ha un po' questo significato, cioè dell'essere chiamato fuori. E il senso di questo è qualcosa di grande, di straordinario. Sappi una cosa, Dio ti ha scelto. scelto. E questo per noi è un senso di gloria, di privilegio, è l'unico vero vanto che possiamo avere, che non dipende da noi, ma dipende da Lui. ma è anche qualcosa di grandemente responsabile per noi, cioè ci carica di una grande responsabilità. E voglio parlarvi di questi due aspetti e poi li approfondiremo. Anzitutto riconosciamo questo, che nel suo infinito amore, nella sua infinita sapienza, nella sua onniscienza, Dio ha compiuto una scelta. la scelta di morire per gli uomini, per le donne, che compongono questa umanità. Ma vedete, Lui dice, non c'è amore più grande di questo, che dare la propria vita per i Suoi amici. Voi siete miei amici, quindi esiste una scelta che Dio fa. Ma che viene chiaramente confermata, questa scelta, dalla risposta che il cuore dà. Io muoio per i miei amici, e ti ho scelto. E c'è un modo per capire se tu sei tra quegli amici che io ho scelto. Se tu fai le cose che io ti comando. Ed è questa la gloria di una grazia senza misura, e il privilegio di una responsabilità immensa e senza misura. Ed insieme formano il cuore del cristiano, l'essenza stessa del cristianesimo nella nostra vita. Ed è di questo che dobbiamo parlare in questa sera. scelti per servire. Ed è un tema che stiamo trattando, avete visto, attraverso i culti da più di una settimana. Anche il fratello Roger Coffi ha trattato questo argomento. Ed è qualcosa che il Signore mette nel nostro cuore con forza, con determinazione. Anzitutto voglio dirvi una cosa, fratelli. Noi siamo ricchi e benedetti. Non dire mi manca qualcosa, perché a te non manca nulla. Sei il Signore il tuo pastore. Non dire che ti manca qualcosa, perché saresti oltraggioso nei confronti del tuo Dio. Se Dio ti ha scelto, se Dio ti ha chiamato a sé, se tu sei una pecora del suo gregge, se tu sei annoverato tra i suoi amici, allora puoi dire con Davide, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E nulla mi manca, perché la gloria di Dio si è manifestata dal cielo e ha fatto il mio nome tra tanti. Il primo brano che lessi nella parola di Dio quando il Signore mi salvò, fu Isaia 43, che diceva non temere. Non temere, perché io ti ho scelto, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Mi ha chiamato per nome, il mio nome era noto a Dio. Può essere sconosciuto agli uomini, può essere ignorato, può essere deriso su questa terra, ma dinanzi al mio Dio è stato, e non lo so perché, così prezioso, che egli ha dato la vita di suo figlio, Gesù Cristo, per potermi acquistare a sé, perché? Perché mi ha scelto. E questo privilegio è la tua ricchezza più grande, poter dire appartengo a Dio. Ora vedete, c'è qualcosa di straordinario in questo, io lo so, io mi conosco, io so chi ero, e so che non avrei mai scelto Dio, ero un ateo, avevo scelto di dimenticarlo, di oltraggiare il suo nome, ma a dispetto del mio recalcitrare, egli mi ha scelto, mi ha chiamato, e mi ha acquistato. ed ora io, fratelli, sorelle, io sono ricco, perché appartengo a Dio, e anche tu lo sei, anche tu lo sei, perché Cristo è morto per farti suo. io quando penso a questo, alla grazia che mi è stata accordata, io mi commuovo, io non mi sarei scelto, ve lo confesso, al posto di Dio Padre, io sarei passato oltre, se avessi incontrato me stesso, perché non avrei trovato veramente niente di buono, ma sapete qual è la grazia di Dio? Che egli prende ciò che non è buono, e lo trasforma, e lo rende buono. Ora, nel Signore c'è una grazia meravigliosa, c'è un tesoro infinito, e questa eredità meravigliosa e infinita, è ricaduta su di noi. E vedete, a volte noi dobbiamo, soprattutto quando il cuore si fa pesante, i pensieri opprimenti, capita, è vero o no? Noi dovremmo fermare tutto, e non vi preoccupate, il mondo continua ad andare avanti e non succederà niente. Dovremmo fermare tutto, uscire dal nostro mondo che corre, e fermarci a meditare queste realtà, e pensare all'iddio del cielo e della terra, che punta il dito, non il dito accusatore, ma punta il dito e dice, Noemi, sì, per lei io morirò, perché l'ho scelta, per darle vita. E tu, allora comprendi che, per quanto tu possa essere niente in questo mondo, dal cielo, qualcuno si è alzato, ha rinunciato a tutto, per poterti chiamare per nome, e per renderti sua. E allora comprendi che, niente su questa terra può avere valore, se è paragonato a questa realtà. che la vera gloria sta nel cielo, e da ciò che procede dal cielo sulla terra, per prenderci da questa terra, e portarci nel cielo. e allora io voglio nutrirmi di queste ricchezze, ed essere sazio di queste benedizioni. Riesco a spiegarmi, fratelli? Questa è la nostra vita, sapere che un giorno, dal trono divino, il Padre ha scelto me e te. Questa è la vita. E noi siamo stati scelti. Siamo stati scelti, ma questa scelta, che Dio ha fatto, porta con sé dei segni. Vedete, la parola di Dio dice che Gesù è morto per tutti. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo onigenito figliuolo, affinché chiunque, quindi tutti, crede in Lui, non perisca, ma abbia la vita eterna. Però poi, andando avanti, dirà che il Signore ha dato la sua vita per molti, e sembrano già non essere più tutti. E poi, più avanti, rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù dirà, molti sono chiamati e? Tutti, molti, pochi. larga è la porta, è ampia la via, che porta alla perdizione, e molti sono quelli che la percorrono. Stretta è, invece, la porta è angusta, la via che porta verso il cielo. Eppure, eppure è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati, ma c'è un punto, Egli ti ha scelto, e ti ha scelto perché la tua vita non fosse la stessa che era quando vivevi lontano da Lui e da questa consapevolezza che Dio ha messo il suo sguardo su di te, ma che tu viva per compiere quello che adesso appartiene a te. Mi spiego. Da che il Signore ti ha chiamato, ti ha scelto, ti ha fatto sua proprietà, e tu non appartieni più a questa realtà. Lo riconosci questo? Tu non appartieni più a questo mondo fragile, di peccato, con i suoi insulsi, falsi valori. Se Dio ti ha acquistato, tu appartieni al cielo, tu ragioni con la mente del cielo, tu vivi con obiettivi che sono obiettivi del cielo, e non solo, vedete, c'è qualcosa di importante, tu ti devi ammantare, cioè rivestire di ciò che appartiene al cielo.